Il generale Figliuolo si occupa d'altro, c'è stato un avvicendamento, resta ovviamente, ci auguriamo, la possibilità di compiere comunque i vaccini, però ci sono dei contagi in salita, si parla di una nuova variante e vorremmo sapere se non è stato un gesto affrettato e anche i numeri delle vittime non sono proprio pochissimi. Poi c'è Cartabellotta che ci dirà dei numeri, dell'andamento dei numeri. Allora chiedo a lei, c'è stata un'accelerazione che si è voluta mantenere a tutti i costi? Ma no, assolutamente no. Innanzitutto dobbiamo dire con chiarezza, come abbiamo già fatto, che fine dello stato di emergenza non significa fine della lotta alla pandemia, significa proseguire ovviamente con prudenza, con senso di responsabilità, ma oggi abbiamo una platea di ormai 50 milioni di concittadini che responsabilmente si sono vaccinati e questo ci permettono un percorso graduale di ritorno a normalità. Quindi ovviamente dobbiamo osservare con grande attenzione quelli che sono i dati relativi ai contagi, ma fortunatamente non vi è un'equivalente pressione sui nostri ospedali. E credo che il dato che dobbiamo osservare con maggiore attenzione non è il numero dei contagi fine a se stessi, ma capire come questi contagi incidono sui nostri ospedali. E ad oggi i numeri sotto questo aspetto sono numeri ampiamente sotto controllo. Allora, sono sotto controllo questi numeri, Cartabellotta... Ma assolutamente... Ma assolutamente...